Sono partiti. La prima curva con Fast News in vantaggio nei confronti di Big Valentino e Golden Acclamation, Valgeric quarto alla retroguardia. Si mantiene Shutterfly. Andatura abbastanza regolare con le imposte in avanti da Fast News quando si è superata a metà della retta opposta a Big Valentino in seconda posizione. Si mantiene all'interno Golden Acclamation a largo Valgeric nei confronti di Shutterfly. Si affronta la piegata conclusiva con Fast News che ha preso un paio di lunghezze importanti di vantaggio agli avversari, fra i quali Valgeric in aggiramento su Big Valentino. Non ha spazio vitale per correre Golden Acclamation a ricerca del barco, a largo allora si propone Shutterfly. Fast News in vantaggio inseguito all'interno da Valgeric all'arco da Shutterfly. Si unisce alla lotta anche Golden Acclamation, quattro cavalli in linea, a cento metri dal traguardo con Valgeric all'interno che sta passando nei confronti di Shutterfly e Golden Acclamation. Vittoria di Valgeric numero cinque dello schieramento, cavallo che non correva dal ventisette di gennaio. Alessandro Muzzi in sella per i colori del signor Bussotti. Il training è quello di Renato, Monaco. Rivediamo anche sui monitors dell'ipodromo e sul circuito nazionale le battute salienti di questa gara con Valgeric che ha preso tutti d'anticipo infilandosi bene in un buon barco centrale, addirittura di arrivo ed ha avuto ragione di Shutterfly numero quattro al terzo, il tre, Golden Acclamation. Cinque e quattro l'arrivo di questo premio Marghera e la linea che torna alla regia.